La situazione è già difficile in A22, è stata resa ancora più complicata da un incidente avvenuto oggi attorno alle 16 nei pressi del casello di Trento Sud in direzione di Verona. Un'auto ha preso fuoco, il veicolo è stato presto divorato dall'incendio, fortunatamente non c'è stato nessun ferito visto che gli occupanti sono riusciti a uscire prima che divampassero le fiamme. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco permanente di Trento e personale dell'autobrennero, il video è di Andrea Tonezzer.